Come potete vedere c'è un incendio, il fumo si vede all'orazzonte verso lo scalo di San Marco. E' stato bloccato la strada e c'è un incendio presso un capannone industriale, sicuramente lo possiamo vedere dal fumo. Ecco una nuvola di fumo nera che si alza come potete vedere. Sembrano fumo di pneumatici o di materiale plastico. L'incidente è scoppiato proprio questa mattina, oggi è il 7 di maggio 2012, la strada che va per Roggiano, lo scalo di San Marco e Roggiano.